Ciao ragazzoni, bentornati sempre qui dal cap, bentornati sempre qui sul canale, anzitutto benvenuti alla nuova season e vi lancio subito un quesito Avenger o X-Men, lascio la risposta a voi anche perché la mia la sapete già visto il nome del canale Poi, cosa molto importante, iscrizione al canale, certo, ovviamente, perfetto, tutti gli altri social sempre qui in descrizione Ma adesso, basta cazzate, iniziamo con la prima cosa, le spot, le spot, le spot, sì sì, le spot Conviene, conviene sta pixie che mescola il costo di tutte le carte che fanno parte del mazzo iniziale Dipende ragazzi, anche perché, guardate, io vi faccio vedere solamente questa carta, non la variant, ma la carta in sé E Mobius la counter veramente come, cioè la prende, la mette all'angolo e dice, oh senti, non puoi passare Cioè, io l'ho aperta una anche perché mi mancava lo Spider Piggy, quindi, eh, molto bello Sono molto soddisfatto prima di questo e non di pixie, non è che mi interessava molto Consiglio mio personale, tagliatevi le chiavi, raga, anche perché la prossima settimana esce Mockingbird e si prospetta un'altra bella spot Questa è counterabile con Mobius, raga, Mobius non costa niente metterlo nel mazzo Poi, le altre due carte sono Mobius, penso che ce l'abbiate nel mazzo, Mobius e anche lo Spider M Cioè, a me mancava, eh, a me mancava E adesso, ragazzuoli, benvenuti nella season di Kitty Pryde Perché dico questo? Perché è la carta che si sposa di più con la carta del season pass, ovvero Hop Summers Hop Summers che cosa cazzo fa sta carta? La portatrice della Fenice Dopo che si gioca una carta in quella location dove lei è settata, prendi un più uno di energia al prossimo turno Ma qual è la cosa figa in tutto ciò? Che con la Kitty Pryde, che la riprendi in mano tutte le volte a fine turno Tu puoi spammare tutti l'energia che vuoi, cioè, tu accumuli, capito? Tu accumuli l'energia quanto vuoi in quella location, anche perché sarebbe cosa buona e giusta settarla dove c'è Angela Dove c'è Elsa Andiamo a boffare la Kitty Pryde all'infinito E, regà, il mazzo è questo qui A parte tutto che se lo volete giocare vi manca Sta carta, potete mettere benissimo visione Però abbiamo appurato ieri in live che questa carta può regalare veramente tante, ma tante magie, faville e quello che ne consegue Ma ragazzi, da quant'è che non vediamo questo mazzo all'interno di Marvel's Snap? Cioè, da quanto tempo io non vedo Angela, da quanto tempo io non vedo Kitty Pryde, da quanto tempo io non vedo Elsa Bloodstone? Beh, follia ragazzi Quindi, il funzionamento del mazzo è sempre quello Andiamo a boffare l'Angela con tutte le nostre carte in cui possiamo settare il Netcrawler Dobbiamo settare Jeff, abbiamo settare Silk Nell'altra location possiamo settare benissimo Creven Quindi abbiamo due carte da boffare E abbiamo delle carte da essere boffate Quindi, via, subito Aspetta che forse non è questo il mazzo E questo qui, con l'avatarra del grande album di Sabredut Che ancora io non ho capito cosa rappresenta No! No, subito Stagroni mi ha scartato E lui Forge, ma frate, ma che stai dicendo? Iron Fist, che brutta variant, fratello mio Che brutta variant, Iron Fist Pixel, insomma Allora Angela Subito, la settiamo Terzo turno, subito Hop Summers E vediamo subito che cosa può fare questa ragazza Vediamo Io quanto... Vabbè, ma un bot questo Ma ragazzi Ma anche quando faccio i video Mi compaiono i bot E vabbè, Fist Tower quando c'è Craven Va bene Ok, ho capito Vabbè, snappiamo Visto che è un bot Ci prendiamo sti quattro cubini Che ti devo dire E vabbè In un'altra location Setti Craven Tu in un'altra location Setti Angela Con tutte le carte da spostare Va bene E tralasciando questo game Intanto ne recuperiamo altri E questo è il quanto Visto che adesso Lo di snap Va bene Giochi Jeff qui Giochi Giochi Nightcrawler Passi Via Fai cose Volture Se mi batte il bot Mi cazzo E' un'immagine Che mi batte il bot Ok Dammi Dammi Doctor Doom Esatto Dammi Doctor Doom Perfetto 1, 2 E 3, 4 Perfetto L'unica cosa è che non vinco qui Vabbè, sti cazzi Nel senso Dovrei vincerla Abbastanza bene Dovrei portarla a casa Oh, via Via Anche il bot ti rirà E questo è il funzionamento Del mask Non c'è nient'altro da dire Allora Sarebbe cosa buona Settare subito Kitty Pryde Ovviamente bisogna pescarla Kitty Pryde Ma Kitty Pryde di turno 1 Raga Penso sia Una mana dal cielo Perché Io sono Sono contentissimo Sono contentissimo Di questa cosa Perché La season di Elsa Con Kitty Pryde Con Angela E' una delle mie preferite In assoluto Su Marvel Snap A mani basse A mani basse Ok Questo non è un bot Questo penso Che ci vuole fare Dei danni assurdi Superflusso Lo accetto Ok E allora Subito Crevene No Subito Creven Nightcrawler Attenzione a questo Pazzo lucertolone Raga Attenzione al Grande Stegron Che fa? Ok Che pazzo Ok 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 Allora tu giochi La storm Tra l'altro C'ha anche L'ultimate della storm Storm Allora sai che facciamo? Nightcrawler Lo lascio lì Intanto eh Giochi silk E basta Le di sif Vabbè Mi devo aspettare Una era gigantesca Quanto non lo so Quanto Lo schermo Che sto vendendo Io No Elsa Bloodson E' anche buona Sai Elsa Bloodson E' anche buona Vabbè Giochiamola E giochiamo anche Jeff A sto punto Anzi Che facciamo? Facciamo così Facciamo così Attenzione Sta per arrivare Con uno shang Gigantesco Guarda guarda Il problema Che lui c'ha Nylos Dove è questo? Che lui c'ha Nylos E Pepepepepe Altro quesito Che cosa Si potrebbe giocare? Si potrebbe giocare Spider-Man Ma anche Stegron Oddio Non lo so Oddio Onesto Non ne ho idea Onesto Non ne ho idea Non so cosa potrebbe Giocare lui Si potrebbe pensare Di fare questo Si potrebbe pensare Intanto di chiudere Ci metti Che fan Nylos Esatto Vai al centro Frate Dai Vabbè Oh Teoricamente Nel senso Basta far così Teoricamente No Qui mettiamo Angela E quindi Silk va in mezzo Giusto? Dovrebbe bastare Esatto Si ritira Buono 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 Grande Stegron Bello Stegron Hai portato la vittoria Ragazzo GG Complimenti Guarda quanto Cazzo sei Squamoso Prossima Dai Annigliamo un altro Su Come 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 Ti chiami Ragazzo G Succo di frutta Gustosissimo Ora Bello questo Sia Crema Sia Angela Io settele prima Angela Sapete La Space Lui è un Thanos Ok Dimensione Nur Potrebbe essere interessante Di Castello Blackstone Bello Ok Ci abbiamo anche la play Per il turno 3 Ovvero Elsa Kitty Bride Ah Lui si prende Lui ha Bene Molto bene Questa cosa Molto bene Questa cosa Lui c'ha un sacco Di energia Accumulata Bello Un più tre Un più tre Perfetto E allora Io vorrei Far prima Questo Vorrei far Prima Questo Si Ci sta Cioè Metti che cazzo Che gli Inclicca il ragazzo Di giocare Mi all'Io In mezzo E mi fa Fuori sia Elsa Che a Kitty Bride Insomma Non vogliamo questo Ho capito Va bene E mo Cosa cazzi Cioè nel senso Vabbè Intanto vai giocando questo Intanto vai giocando questo Subito E poi E poi vai a giocare Jeff Per forza Io tu la Kitty Bride Non la buffi E lo so Frate E lo so Frate Attenzione Addirittura Addirittura Blob E qui c'è da fare una scelta Cioè Blob Lo devo tirare giù In qualche modo Mi serve giustamente Shang Mi serve giustamente Shang Però il dinosauro In qualche modo Lo possiamo gestire No Ci prendiamo anche il più uno Attenzione Allora Mi dai Shang Intanto Che mi serve come il pa Bello Stegron Bello Stegron E Vabbè A sto punto Intanto Jeff Te lo vai spostando qui Magari E dico magari Spiderman Rosetti E poi Kitty Bride Stegron Metti che Che ne so Tanto Blob Non si può spostare E quindi È inutile E allora Stegron Qui Allora Stegron Qui Metti Nightcrawler Qui E poi Kitty Bride E Spiderman Anzi Spiderman Lo vieni Ok Vai Stegron Bomb Guarda che Pizza in faccia Le arrivano A questi A queste A queste carte Dell'avversario Ok Perfetto Abbiamo anche Il più uno Il problema È che lui Ci ha Io Me lo dai Shang Mi da silk E frate ma se non mi dai Shang Come faccio a vincere In tutto ciò in questo game Non posso Non posso mai Ma non serve Cioè anche se gli gioco tutto lì Non serve E non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio In nessuna ragione Ce la faccio Un abbraccio al ragazzo Che comunque non ha ancora capito Che si è cambiata season Complimenti Fammi pescare le carte giuste Angela subito Vai Accettamela Pulita Ora Subito da Kitty Pryde Blade Come Blade Ma come Di scartare No Non me lo dico No Ego tocca a te Atlantide Ok Kitty Pryde Ok Antwene Va bene Asteroide Bello Asteroide Ci vorrebbe proprio Un bel kreven lì No vero Mai Snap Ok Ok E turno 4 Guarda C'è uno C'è uno Stegron Bello Bello Grosso Che sta per arrivare Ma non adesso Sai Forse Forse meglio di no Forse meglio di no Intanto Kitty Pryde Nightcrawler E lo metto Anzi Gioca a Spiderman Intanto gioco a Spiderman Metti che mi vai in mezzo Ok Che sta facendo Sto giocando Bella quella variante Di saspot Molto bella Ok Buono Spiderman Spiderman Si but Sull'asteroide Guarda lì Serviva come Un bel kreven lì Bella Hop Bella Hop Potrei E dico potrei Mari non spostare Jeff Ma Spostarlo qui Giocare Nightcrawler E giocare Kitty Pryde No E poi valuti E poi valuti Il da farti Ah è vero Sono coglione Sono coglione E ovviamente Hop Si sposta anche lì Perché c'è asteroide Vabbè Vabbè Dr. Doom È la play Dr. Doom È la play E ti credo Rimane qui Ha voglia Lì Va bene Iron Man Ok Bene Iron Man Grazie Gli 8 cubi My bro Spero tu sia un bot Altrimenti c'è un problema di fondo Qui all'inizio della season Di Marvel Snap Ah Ultimo game Frate Ultimo game Cerchiamo di farla brillare Più del dovuto Questa Kitty Pryde Intanto ovunque Non ci interessa Che alla fin fine Le uniche carte Non reveal che ci abbiamo Che sono Spider-Man Shang Dr. Doom Bello Frate Craven Sull'asteroide Ci sta come il pane Lì È già turno 3 Puoi pensare Di settare Silk E Kitty Pryde In mezzo Così intanto Silk si sposta E fa quello che Ok Bello Sì Ci sto Anche Spider-Man È buono Anche Spider-Man È buono Sai Così Così intanto Le si sposta Fa cose Fa faccende Balla Balla Silk Qui Qui è bella Qui è beta La cosa Io quasi quasi Uno snappettino Lo farei anche Quasi quasi Facciamo così Così Mi gusta Come cosa Poi E poi Spider-Man In mezzo Mi fa Spider-Man In mezzo Kitty Pryde Su ovunque Ok Bello Bello Così Ora Il problema È come Vinco io Sulla Baxter Building Ovviamente Madonna Ok Intanto Fai così Intanto Fai così E speri Che Spider-Man Possa Prendere La Miss Marvel Si è chiuso Ok Bello 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 così Bello così Ok Sposta di Silk Va bene lì Ok E qui cosa abbiamo da fare Abbiamo da fare Stegron Ilza Digi la chiudi così Eh ma lui c'è la spada Da poter usufruir Qui c'è la spada Da ebbano Voglia Mi serviva Mi serviva Shang Io ci provo ugualmente Ma lui sicuramente Ci fa la spada Vai proviamo Esatto Bella però Bella Li E non vinco Però non ce la faccio Oddio Vinco per differenza Il cazzo Bello Stegron Bello Avete già messo Stegron nel mazzo No Affrettatevi Affrettatevi Ragazzi Come concludere al meglio Con l'MVP Il grande Unico Lucertolone Stegron Ora Indipendentemente dai gamer Anche perché Bisogna un attimo Vedere pure I mazzi che ci capitano Contro i bot Attualmente A inizio season Cioè il mazzo è veramente Molto solido Il mazzo è veramente Molto solido Sono veramente contento Di questa cosa Anche perché Si prospetta un bel Dai sono fiducioso Si prospetta una bella season Dai Si prospetta una bella season Se queste sono le premesse Fatemi sapere invece come Con che mazzo Avete iniziato Avete startato questa season E se avete già raggiunto l'infinite Domani